Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli alberelli di riso soffiato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono riso soffiato, cioccolato fondente e per decorare palline di zucchero e stelline di zucchero. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato e lo facciamo dritare per 5 secondi a velocità 7, riunire sul fondo del boccale con la spatola, sciogliere per 5 minuti, 50 gradi, velocità 3. Versare il cioccolato nella ciotola con il riso soffiato ed amalgamare con la spatola. Formare gli alberelli utilizzando dei coni di carta per confetti. Compattare bene spingendo sul fondo. Posizionare in un bicchiere e riporre in frigo per almeno quattro ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso gli alberelli dal frigo, adesso rimuovere i coni. Abbiamo sciolto un po' di cioccolato fondente, adesso con l'aiuto di uno spiedino andremo a mettere le decorazioni. Alberelli di riso soffiato, grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!